Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sempre con Kari Ciao ragazzi Che risponde dopo mezz'ora Eh vabbè ragazzi E' notte E' tipo mezzanotte passata ma sti cazzi Siamo su questo livello qui che è sempre ArenaCraft Quindi più in descrizione E siamo a provare questa nuova modalità Praticamente è una Lucky Race Che forse molti di voi sapono già cos'è Ma senza dilungarci troppo Andiamola subito a provare Quindi Kari dove sei? Sei pronta? Ciao Allora 3, 2, 1, giù Ok siamo sempre nella solita Perfetto banca 10 secondi Ragazzi come potete vedere Abbiamo dei Lucky Block davanti In fondo tipo non si vede ma c'è un muro Perché mi sa che ho messo la render distance a me Sono lato a destra Ok perfetto sì ma tanto non ti cago più di tanto Grazie Allora aspetta Come potete vedere ci sono delle cose strane Tipo questa è una sorpresa Vediamo sono morto Che bello La sorpresa del cazzo Questa la vinco io mi sa Vabbè no 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 Mi ha tipato sopra il cactus Ma è stronzo Ma comunque tipo non ho ancora detto qual è lo scopo Lo scopo sarebbe tipo quello di andare Fin in fondo Il primo che arriva in fondo vince Il punto è che non è così facile Perché comunque Ci possono trovare cose che ci uccidono appunto E si può trovare anche la droga Che io tipo mi sono appena fatto di droghe pesanti ragazzi Infatti Ma perché sono morto Madonna stai lagnatele Madò Ma perché sono morto seriamente Cioè non Attenzione sono prima in classifica Ma no no veramente È buggato Sono Uuuu Armatura però Questa è buona Cazzo 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 Ma non capisco Ero full vita Vabbè Questo come lo supero Con i cactus No seriamente con i cactus Devo fare il parkour con i cactus Ma te ne rendi conto No vabbè Eh no sul serio Veramente è una cosa indecente Intanto qui tipo Ma sei morta È qualcosa di assurdo Sì sono morta E vabbè Oddio Ok ce l'ho fatta a superarlo Proprio il parkour cactus No stai ragnatele sono proprio assurde Ma perché sono morto Perché è difficile metano Perché è difficile Ma no no Non è questo il punto Perché non mi è successo nulla Io mi sono avvicinato in un punto E sono morto Io ci smatto male qui Che poi queste ragnate Eh vabbè Sei ma bobbasta Cioè No Perché Ok forse non dovevo toccare i lapislazzoli No 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 vabbè Ma non è che toccando veramente i lapislazzoli si muore Perché mi è venuto tipo questo dubbio E effettivamente ora evito di passarci Uh la madonna Spada piccone TNT Che è un bordello di roba Che comunque è utile Perché si possono trovare i mob e varie cose Lezzissime Queste qua sono palle di neve normali Purtroppo Ma c'è un modo per dare noia agli altri player o no? C'è Jeb Ho trovato Jeb che oltretutto sparava robe Cioè ma ricominciare tutto da capo Madonna è proprio È proprio Proprio dallezzi insomma Oh cavolo Mamma mia Sì ma infatti È brutto morire Molto brutto E qua io sto continuando a beccare l'acqua Che effettivamente forse va anche a mio vantaggio Quindi boh non saprei Il muro Ma volendo tipo Io non ho capito Tu l'hai provata già a camminare sui lapislazzoli? No Eh provaci un attimo e guarda se muori No E che cazzo però No ma ti giuro che non riesco ad andare avanti Perché? Cosa non riesci a fare? Gli zombie Gli zombie Ah cavolo gli zombie Sì ce l'ho avuto io prima in una partita Bruttissima come cosa Comunque Sono primo Sono primo Dai che forse questa Forse l'ho vinta O c'è un altro piano o l'ho vinta No c'è un altro piano Ma è possibile morirci sempre con gli zombie? A quanto pare si Oh mio dio ho trovato un bordello d'oro Una mela dorata Ma aspetta tu sei ancora a che piano sei? Primo, secondo o terzo? Al primo Al primo Al primo Esatto Si è messa un po' male Ci ho messo tantissimo per gli zombie Io ho trovato un biscotto della nonna Vabbè Vabbè No ma ti patto indietro Ma di poco Ok perfetto Io sono a 19 punti Ma a quanto bisogna arrivare? Cioè Ah i punti sono i lucky block Ok Forse bisogna arrivare a 30 Esatto metano buongiorno proprio Ah o forse è a tempo Sì esatto Ci muori su Su quelli eh Ah ecco perché morivo Infatti ci smattavo male E tipo dicevo Ma perché crepo? Ok ok Perché crepo? Eh vabbè Cos'è questo qui? 5 secondi per rompere un altro lucky block No Dio mio Comunque sei l'unico in testa Giusto per dire eh Eh no sono Sono Ah vabbè è vero Però cavolo sono Cosa hai fatto sempre con gli zombie? No 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 Oh cavolo Ma secondo piano ci sono morto stavolta Vabbè io tipo Dovrei essere Oh cavolo Lo stavo per fillare Di nuovo No no via Sto rischiando troppo Devo farmi Tutta a modo qui Perfetto Io sono di nuovo al terzo piano E sono ancora in testa Perfetto Quindi Questi ragnative che ti lamentano proprio Cioè è una cosa assurda Ma comunque come minigioco Questo qui è ganzissimo Veramente Ok Questo era l'ultimo Perfetto Vediamo ora se sono ad un altro piano o no No madonna Ho vinto Ho vinto Attenzione in chat Metano007 Ha vinto una partita Nella mappa colori Perché le mappe hanno questi nomi qui Comunque Veramente un gioco fighissimo Ok ragazzi Anche se questo video Tipo è stato cortissimo Infatti penso Si è durato intorno ai 5 minuti Ma alla fine era giusto Per farvi vedere appunto Di cosa si trattava Di questo minigioco qui Leggissimo Fatemi appunto sapere Se volete rivederlo sul canale Magari con chi Perché a me sinceramente Mi piace molto Io ora ho fatto una partita sola Perché effettivamente È un orario abbastanza indecente E poi effettivamente Perché era più come test Che altro Comunque appunto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ovviamente il canale di Cari Lo trovate in descrizione Ed ciao a tutti Ciao ragazzi